Mai come adesso la squadra ha bisogno di un risultato positivo perché il risultato positivo ci fa acquistare di morale, di tutto e quindi la squadra ora diciamo che ha bisogno di una vittoria per sbloccarsi un po' mentalmente. Però sappiamo che comunque ci sono tanti giocatori nuovi e che parecchi sono arrivati da poco e per assimilare gli schemi del mister ci vuole un po' di tempo. Però il mister su questo è maniacale, nell'ultime settimane ci sta facendo provare e riprovare gli schemi per far assimilare ai nuovi arrivati le sue idee e speriamo di assimilarli presto e che arrivano col bel gioco e arrivino anche i risultati. Dalla prima partita col Varese dove seriamente abbiamo fatto fatica comunque proprio anche fisicamente ci sono sempre miglioramenti, però ti ripeto questa è una piazza che è esigente, che comunque ha una storia, non siamo a ripete sempre le stesse cose, quindi abbiamo bisogno di trovare la forma al più presto e di assimilare subito gli schemi del mister e cercare veramente di portare a casa i tre punti perché comunque la squadra ha bisogno, perché parliamoci chiaro la vittoria da morale e ti fa vivere la settimana in modo diverso, quindi speriamo già da sabato comunque giornata dopo giornata si vedono i miglioramenti. Comunque il mister è maniacale sugli schemi, cerchiamo di assimilarli giorno dopo giorno e speriamo solo di vincere sabato.